Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Bene, riaccominci qua a continuare il discorso sul crociolo del Stragone. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Prima di iniziare la trasmissione, volevo farlo durante, ma vi ricordo che la prima trasmissione che abbiamo fatto dalle ore 15 alle ore 16 e 30, io e Francesco qui da Radio Gamma 5, la potete trovare su internet. Cioè la trasmissione è già stata caricata su internet. Se a qualcuno è interessato, io do l'indirizzo da scrivere per riuscire a rintracciare la trasmissione e riascoltarsela in formato mp3, credo che sia. Allora, avete tutti carta e pena, siete tutti pronti? Allora, http.2.i. mio.discoremoto.virgilio.hit. barra sacro trattino sottolineato bosco barra allora chi è abituato ad usare internet sa che tutto quello che va scritto che io vi ho detto va scritto tutto in minuscolo e va scritto tutto attaccato senza spazi allora ripeto se qualcuno vuole prendersi ancora appunti l'indirizzo che trovate su internet la trasmissione dalle ore 15 alle ore 16 e 30 e su un futuro subito dopo quando sarà possibile troverete anche la trasmissione che faremo fra poco vi ridò l'indirizzo siete pronti a scrivere http 2 punti barra barra mio punto disco remoto punto virgilio punto it barra sacro trattino di sottolineatura bosco barra tutto attaccato mi raccomando ripeto ancora http 2 punti barra barra mio punto disco remoto punto virgilio punto it barra sacro trattino di sottolineatura bosco barra ecco a questo indirizzo trovate in internet la trasmissione che oggi abbiamo fatto dalle ore 15 alle ore 16 e 30 e verranno via via caricate anche la trasmissione di questa sera bene detto questo prendiamo un attimino la trasmissione di magia stragoneria paganesimo riprendendo da dove eravamo rimasti l'ultima volta a proposito sempre del dibattito sulle determinazioni quella che è la rappresentazione della stragoneria proviamo un attimino pronto ok allora eravamo arrivati dove tanto più specializzate complessa la specie cui il singolo individuo appartiene tanto minori saranno le variabili introdotte dal singolo come variazione della specie stessa ed eravamo arrivati continuato il discorso sulle determinazioni per riuscire a comprendere come noi possiamo variare attraverso la nostra volontà attraverso il nostro modo di operare e la nostra vita quotidiana gli esseri umani possono variare il mondo sociale e culturale permettendo un diverso adattamento dei nuovi nati e questo concetto è fondamentale nella stragoneria e nel paganesimo politeista cioè in pratica noi invertiamo quelli che sono i modus operanti cioè i termini su cui operare all'interno della vita non è che io devo costringere all'educazione la persona che è appena nata ma al contrario devo cambiare i rapporti che la situazione esistente che le persone che ci sono gli adulti che ci sono si rapportino con il nuovo nato in pratica io non devo cambiare i termini educazionali ma devo cambiare gli adulti affinché gli adulti costruendo diverse relazioni fra di loro e diverse relazioni col mondo costruiscano una situazione diversa in cui il nuovo nato nascendo si relaziona questo concetto un altro concetto che è fondamentale nella stragoneria noi siamo abituati quando parliamo di educazione a rivolgersi dal punto di vista dell'adulto ad il bambino appena nato come se l'adulto fosse arrivato non si sa bene dove ne come mentre il bambino appena nato fosse un povero deficiente che deve crescere ad immagine dell'adulto se l'adulto insegna il bambino se questo metodo noi lo abbiamo come classico nel modo di rapportarsi all'interno della vita in realtà non è così c'è l'adulto non è altro che un soggetto che si sta costruendo un soggetto che si sta relazionando e le relazioni che l'adulto costruisce nel mondo in cui vive le relazioni ripeto e sottolineo sono il sistema educazionale che viene calato al bambino cioè il bambino non recepise semplicemente ciò che l'adulto gli cala e gli dice ma il bambino recepisce la struttura emozionale che viene espressa dall'adulto nelle relazioni fra l'adulto e il mondo pertanto se io voglio educare correttamente o voglio educare meglio il bambino non devo dire delle cose migliori al bambino ma devo imparare io a relazionarmi in maniera più positiva con il mondo è inutile che io in fabbrica subisca delle relazioni al limite dello schiavismo senza reagirvi o senza avere delle reazioni di rifiuto di ripulsa e poi pretendo di insegnare le relazioni democratiche al bambino se io ho interiorizzato all'interno di una situazione sociale o all'interno di una situazione oggettiva delle pulsioni schiavistiche e le ho interiorizzate quelle relazioni schiavistiche che io voglia o che io non voglia attraverso la struttura emozionale vengono calate il bambino se soltanto se io ho una ripulsa rispetto a queste cose e ho un atteggiamento positivo rispetto a degli atteggiamenti inversi cioè rispetto degli atteggiamenti di una società di diritto chiaramente il bambino prenderà questi miei atteggiamenti che ho allora la condizione fondamentale che viene calata il bambino non è ciò che io dico di intelligente o ciò che io non dico ma è ciò che io faccio ciò che io faccio come azioni e attraverso le azioni mi rappresento nel mondo questo è ciò che io riuscirò a calare nel bambino pertanto gli esseri umani possono variare il mondo sociale e culturale permettendo un diverso adattamento dei nuovi nati io cambiando l'atteggiamento o modificando l'atteggiamento o esprimendo ciò che voglio e ciò che non voglio nel mondo in cui io esisto non faccio altro che variare il mondo in cui io vivo e permetto ai nuovi bambini che nascono una diversa tipologia di adattamento in quanto la mia ribellione il mio modo di vedere la vita il mio modo di considerare le persone come dei soggetti di diritto diventa metodo con cui io affronto l'esistenza metodo che viene dopo armato dai miei sentimenti dalla mia intelligenza dalla mia cultura dalla mia ricerca però diventa il metodo con cui io vado ad affrontare l'esistenza questo io vado ad affrontare l'esistenza viene trasmesso ad altre persone e io vado ad affrontare l'esistenza diventa noi andiamo ad affrontare l'esistenza e diventa un insieme corposo di soggetti e di individui che vanno ad affrontare l'esistenza partendo dal presupposto che le persone sono dei soggetti di diritto costituzionale dei soggetti di diritto giuridico e non degli oggetti di possesso o degli oggetti da sottomettere questa variazione cambia le condizioni di esistenza e cambia le condizioni oggettive all'interno delle quali il nuovo Nato viene a costruire le sue strategie di esistenza e questo è la rappresentazione di un soggetto che si fa Dio nell'oggettività in cui esiste l'oggettività in cui esiste è fatta da fattori è fatta da elementi è fatta da soggetti è fatta da cose è fatta da tutto un insieme complessivo all'interno del quale il soggetto agisce ma il soggetto non agisce all'interno di quell'insieme che può essere sociale, culturale, psicologico, emozionale come il soggetto passivo ma agisce come un soggetto propositivo cioè agisce come un soggetto che si alimenta dal Dio che cresce dentro di lui agisce come un soggetto che manifesta la sua volontà nell'insieme di esistenza in cui è nato andiamo avanti per gli esseri umani le modificazioni più visibili e immediate sono quelle di ordine sociale e culturale conoscere e considerare l'esistenza di trasformazioni qual è il risultato delle relazioni fra noi come soggetti e il mondo in cui viviamo significa diventare consapevoli allora ripetiamo un attimino questo concetto che è il concetto che ci porta all'inizio al prologo di ciò che è la consapevolezza conoscere e considerare l'esistenza di trasformazioni qual è il risultato delle relazioni fra noi come soggetti e il mondo in cui viviamo significa diventare consapevolezza la consapevolezza è la mia capacità di diventare sempre più precisa poi ci significano vari gradi di consapevolezza ma questo può essere visti dall'esterno non come verità interna è la mia consapevolezza della mia collocazione del mondo e della mia relazione fra me e gli oggetti del mondo questa è la consapevolezza e l'inizio significa riconoscere la presenza di tutto noi stessi in ogni nostra azione in ogni nostra sensazione in ogni nostra parte fisica in ogni nostra parte psichica significa riconoscere ogni determinazione come manifestazione della totalità di noi stessi ogni volta che noi esprimiamo una sensazione ascoltiamo una parte fisica manifestiamo la nostra parte psichica mettiamo in essere la nostra azione noi riconosciamo ognuna di queste azioni come la manifestazione della totalità di noi stessi quando riconosciamo riconosco che le mie mani non sono un oggetto diverso da me nel mio sentire appartiene a qualcosa di diverso da me nel mio sesso è diverso da me con tutte le pulsioni che implica io riconosco me stesso come un dio che per costruire la sua esistenza necessita di agire ora riprendiamo questo concetto che è fondamentale nel pananesimo quando io riconosco che le mie mani le mie mani ogni cellula delle mie mani è un soggetto a sé stante è un soggetto che mette in essere le sue strategie di vita però vi ricordate cosa abbiamo detto un attimo fa un attimo fa abbiamo detto parlando del bambino che gli esseri umani possono variare il mondo sociale e culturale permettendo un diverso adattamento dei nuovi nati ricordiamo che questo concetto che abbiamo espresso prima è anche un altro concetto io come soggetto io come individuo vivendo bene manifestando le mie tensioni manifestando le mie pulsioni io permetto a ognuna delle cellule del mio corpo a ognuna dei soggetti delle tensioni che attraversano il mio corpo di sviluppare se stesse cioè se io come soggetto so ascoltare me stesso e le tensioni che emergono dentro di me so anche fare le scelte positive nel sistema in cui io sto vivendo ma se io faccio delle scelte positive nel sistema in cui io sto vivendo ognuna delle cellule del mio corpo può fare le sue scelte positive può stare bene perché ricordiamoci che ogni cellula del nostro corpo è un soggetto a sé stante è un soggetto che mette in atto le sue strategie di resistenza ognuna di questi soggetti si riferisce a me io posso fare anche delle scelte distruttive ma se io faccio delle scelte distruttive per me stesso faccio le scelte distruttive anche per ognuna delle mie cellule per cui cominciamo un po' a pensarci come anche dei soggetti complessi ma nel momento stesso in cui ci pensiamo di soggetti complessi dobbiamo anche pensarsi come delle unità delle unità che agiscono operativamente le cellule della mia mano agiscono per se stesse per sviluppare se stesse se io uso carichi pesanti uso molto le mie mani molte cellule si trasformeranno in calli se io uso meno le mie mani molte cellule non si trasformeranno in tessuto calloso però io devo pensare di costruire le migliori condizioni oggettive anche per le cellule del mio corpo però a me personalmente le cellule del mio corpo mi interessa niente o quasi niente o non sono abituato a considerare il loro benessere perché non sono abituato a considerare il loro benessere perché sono abituato a considerare il mio benessere ma il mio benessere è in condizione empatica con ognuna delle cellule del mio corpo per cui la ricerca del mio benessere è la ricerca di quella che nel papiro di Darwin suona come l'armonia partorita da Zeus armonia e peito armonia e persuasione per cui ognuna delle cellule del mio corpo manda dei segnali alla mia coscienza alla mia intelligenza al mio cervello e mi dice guarda che le mani le stai usando male il cuore lo stai sovraffaticando il tuo stomaco non va molto bene e lo stomaco manda i segnali il cuore manda dei segnali le cellule mandano dei segnali armonia e peito armonia che io devo costruire e peito e l'azione di persuasione che ognuna delle cellule fanno nei miei confronti e allora cosa io devo fare? devo costruire questa armonia oggettiva che può coinvolgere l'intero mio corpo ma questa azione avviene anche nel tessuto sociale se rispetto alle cellule del mio corpo io sono oggettività rispetto al tessuto sociale io sono una soggettività che agisce e una soggettività manda segnali manda segnali di ciò che non va bene nel tessuto sociale esattamente come le cellule del mio stomaco mi mandano segnali se ho mangiato troppi grassi o se ho fatto qualcosa che non va bene e così io come soggetto sociale mando dei segnali nella società dico questa oggettività deve essere modificata ma è questo comportamento quando io agisco in questo modo io mi faccio un dio e allora proviamo un attimino a uscire dal dibattito sul crogiolo dello stragone e vediamoci invece un paio di libri che ho messo insieme che volevo fare nella prima trasmissione ma dopo non l'ho fatto perché c'erano tantissime altre cose e proviamo a sentirci un po' parlare degli dei Walter Otto nel suo gli dei della Grecia cosa ci dice una teoria di splendide figure è sfilata dinanzi ai nostri occhi e noi restiamo pensosi chi sono infine queste potenze che portano nelle loro mani la ricchezza del mondo pensate a voi stessi rispetto alle vostre cellule ognuna di essi si è presentata a noi nella maniera sua propria ma cos'è l'essenza comune a tutte che le rende degli dei Dio è una paroletta facile a dirsi ma qui fra i greci di Omero che significato ha? la domanda è certo già stata posta assai sovente ma non è mai stata presa in seria considerazione non fosse altro perché l'immensa distanza che corre fra la religione greca antica e la nostra non permetteva di supporre l'importanza non dovrebbe invece essere proprio questa distanza ad affascinarci ad estare in noi l'interesse più vivo certo per una serie di considerazioni dell'argomento è necessario essere pronti ad abbandonare i presupposti dell'immagine del mondo giudaico cristiano e predisporsi ad una valutazione dell'essere e dell'accadere da un punto di vista del tutto diverso ma che cosa potrebbe essere più interessante del chiedersi come un'umanità qual è la greca nella sua geniale era arcaica intesa a divinità o interrogarsi sulla natura delle essenze verso le quali essa levò il suo sguardo sublime come la massima venerazione malgrado le fortissime differenze di carattere e di temperamento in realtà questi dei sono tutti della medesima natura perciò vengono volentieri posti di fronte al genere umano come unità sono gli dei i quali stabiliscono il destino degli uomini anzi abbastanza spesso il poeta dice solo dio o la divinità come se effettivamente fosse un'unica potenza soltanto ad agire dall'alto sull'esistenza terrena comune a tutti è l'immortalità e si chiamano gli eterni coloro che sempre furono con ciò però non è certo stabilito dogmaticamente che non nacquero mai non significerebbe nulla di fronte all'incommensurabilità della loro vita ciò malgrado non ce li si poté rappresentare altrimenti che nella più radiosa giovinezza questo è assai significativo per l'idea greca di Dio è quasi un simbolo della sua essenza peculiare altri popoli non provano nessuna versione a pensare alla loro divinità vecchia persino decrepita non poteva esservi del resto immagine che incuta maggior rispetto di quella che esprime veneranda saggezza ecco dunque perché questo perché gli dei sono tutti dentro di noi e noi li possiamo vedere giovani saltanti che agiscono o vecchi saggi che costruiscono le loro strategie e il loro essere ma in fondo tutto ciò che sono gli dei nell'universo sono parte che ci attraversano ed è questa immagine che è notevole in Valterotto cioè la capacità di vedere gli dei come una cosa che ci appartiene come una cosa che è dentro di noi e fuori di noi e questa armonia noi la costruiamo in continuazione certo noi cambiamo cambiamo continuamente e continuamente cambiano gli dei fuori di noi però è la nostra azione il nostro modo di pensare il mondo il nostro modo di agire il nostro modo di progettare e li chiama li chiama gli dei affinché gli dei possono affiancare le nostre azioni e questo è parte è parte dell'immenso dell'esistenza è quello immenso davanti al quale i cristiani hanno sempre avuto un terrore folle paura hanno ricorso alla violenza al massacro al genocidio e leggiamoci allora cosa ci dice Kurt Hubner in questo a proposito di questo discorso è difficile trovare un'introduzione nell'interpretazione del mito come esperienza del luminoso migliore di quella fornita da queste frasi di Huvon Wilmovitz Mollerdorf dice gli dei esistono conoscere e riconoscere ciò con i greci come un dato di fatto è la prima condizione per capire la loro fede e il loro culto il nostro sapere che esistono si fonda su una percezione sia essa interiore o esteriore sia che venga percepito il Dio stesso sia qualcosa in cui riconosciamo l'azione del Dio se risaliamo all'indietro di millenni con il pensiero dobbiamo definire pressoché quotidiano il commercio degli dei con gli uomini quantomeno essi possono sempre venire e se sono invitati a un sacrificio o un banchetto questo invito è esteso e inteso assolutamente alla lettera così Wilmovitz vede nella teocsenia del banchetto sacrificale in cui il Dio viene alla mensa l'idea fondamentale dell'esperienza mitica del mondo ma gli dei non soltanto esistono sono onnipresenti basandosi su una quantità di materiale empirico Wilmovitz mostra come essi interagiscano costantemente con tutte le sfere della vita sia con quelle della natura sia con quelle del mondo umano e come per questo motivo venissero considerati a tal punto una realtà evidente che ai greci non venne mai in mente di addurre qualche argomento o dimostrazione a sostegno della loro esistenza l'uomo scrive Wilmovitz portava già con sé la fede di un Dio concreto semplicemente perché aggiungo io era espressione del Dio e degli dei in ogni azione che lui manifestava nella sua esistenza tutto ciò che abbiamo esposto fino ad ora è ancora più che altro una constatazione storica ma come in tanti esponenti dell'interpretazione luminosa del mito anche Wilmovitz una tale constatazione si trasforma all'improvviso in una convinzione personale che io chiamo la presentificazione del mito egli osserva di non poter escludere con certezza che il resoconto di Erodoto sua pretesa parizione da Deatena al seguito del vitorioso Pisistrato Erodoto 1.60 corrisponde a verità analogo al suo giudizio su Saffo la quale dichiara che le era apparsa Frodite chi può negare che la dica il vero anzi a Wilmovitz non riesce affatto difficile immedesimarsi in incontri del genere io stesso racconta riferendosi a Pan ho vissuto una sua epifania quando mentre cavalcavo per una gola dell'Arcadia all'improvviso apparve sopra il mio capo fra le fronde di un albero uno strano caprone che guardava immobile sotto di sé cavallo e cavaliere anche Walter Otto filologo classico di primo ordine come Wilmovitz ha posto al centro del mito l'esperienza luminosa egli vede negli dè gli archetipi della realtà essere un dio significa portare con sé tutto il significato di una sfera dell'esistenza posarsi come splendore grandezza su ciascuna delle forme ma rivelare nei suoi luoghi più nobili il proprio pieno splendore e il vero volto la divinità e la forma che ritorna in tutte le immagini il senso che le tiene insieme e che nell'immagine umana in quanto è la più sublime fa conoscere la propria spiritualità per i greci il divino è presente non viene conosciuto soltanto attraverso il miracolo o attraverso oscuri misteri ma attraverso l'esperienza naturale è il dio che viene colto nei processi regolari della natura ma è anche il dio che vive e opera nella fortuna nel caso negli strati più profondi dell'anima la più fidele immagine della realtà e al tempo stesso la più vivente testimonianza dell'esistenza degli dèi ciò che vediamo cerchiamo di concepire come il naturale è il divino qui con il naturale non si intende soltanto la natura ma anche il mondo degli uomini in cui ci muoviamo quotidianamente anzi miticamente persino la storia è solo parte di un evento divino e perciò si riflette nelle narrazioni del mito tutto questo per otto non è altro che il risultato di un'esatta analisi storica che si sottraga ai pregiudizi moderni ma con forza molto maggiore che in Villamovitz irrompe in lui la personificazione del mito e finisce col dominarlo quasi completamente ed è fondamentale tutto questo perché la rappresentazione del dio è fatta da ogni essere essere umano nel nostro caso che agisce nella sua oggettività ma quando un essere agisce nella sua oggettività non manifesta solo se stesso come un dio ma manifesta anche il dio che la sua azione include può essere Afrodite può essere Marte può essere Artemide può essere Zeus può essere Demetra può essere Estia può essere Nettuno può essere Apollo Dioniso può essere Pan può essere Armete ma le nostre azioni hanno sempre un atteggiamento divino e l'unica cosa che può negare la divinità alle nostre azioni è l'incoscienza l'inconsapevolezza la mancanza di sapere attraverso la quale noi andiamo ad agire la sottomissione la distruzione del sapere e della conoscenza distruggono la nostra volontà con cui noi affermiamo noi stessi nel mondo proviamo andare avanti ancora quando riconosco che le mie mani non sono un oggetto diverso da me nel mio sentire appartiene a qualcosa di diverso da me nel mio sesso è diverso da me io riconosco me stesso come un Dio che per costruire la sua esistenza necessita di agire ora e in quel momento scopro il luminoso nel mondo e scopro gli dei e il mito nel mondo io scelgo le mie azioni in base alle mie predilezioni e alle mie possibilità valutando il meglio per me nel mondo in cui vivo attenzione ognuno di coloro che mi stanno ascoltando adesso è il mio cioè ognuno delle persone che mi ascolta deve scegliere le sue azioni in base alle sue predilezioni e alle sue possibilità valutando il meglio per se stesso nel mondo in cui vive io uso il termine il mio perché sono io che sto parlando ma quel mio va riferito al mio a ogni soggetto che mi ascolta per cui se io dico il mio perché mi riferisco a me stesso ognuno di voi che mi ascoltate deve comprendere di se stesso attenzione le mie azioni le mie predilezioni le mie possibilità la mia valutazione del meglio la mia valutazione del mondo questo significa che per ognuno che mi ascolta io dovrei dire le vostre azioni le vostre predilezioni le vostre possibilità le vostre valutazioni del meglio le vostre valutazioni del mondo questo è il mio essere Dio per chi mi ascolta è il vostro essere Dio allora io sono il padrone? no lo sto dicendo ad una sola non lo sto dicendo ad una sola persona privilegiandola rispetto a tutte le altre lo sto dicendo a tutte le persone a tutti i soggetti perché tutte le persone devono riconoscere se stesse come dei deve essere dunque un modo sul quale costruire la vita sociale degli esseri umani gli esseri umani devono costruire una società che serva a loro per le loro necessità per i loro bisogni per la loro capacità di affrontare il futuro non una società che serva per la verità del macellare Sodoma e Gomorra per un povero cretino che viene a dirvi questa è la verità ma una società che serva ad ogni singolo essere umano per le sue tensioni per il suo divenuto per le sue trasformazioni per il suo futuro ricordiamoci questo perché altrimenti ricadiamo nell'orrore aberrante dei monoteisti dei cristiani di quell'orda fanatica e criminale che sono i vescovi cattolici ricordiamoci tutto questo una società serve agli uomini che vivono la società non a un pazzo criminale che si arroga il diritto di essere il creatore del mondo solo un becille viene a dire una cosa del genere le società umane devono servire agli uomini gli uomini come soggetti che determinano se stessi non a un parco buoio un parco bestiame come vogliono i preti cattolici cominciamo un po' a riconoscere i nostri diritti personali bene andiamo avanti cosa si intende col termine Dio proviamo un attimino a metterci d'accordo cosa intendiamo quando usiamo il termine Dio cosa intendiamo quando affermiamo che un essere della natura o l'essere umano nel nostro caso è un Dio noi usiamo il termine Dio dei attribuendo quel termine più significati tutti legati fra loro un Dio è colui che ha la necessità che lo ha portato a riconoscere a se stesso diverso del mondo circostante somma la propria volontà di esistenza organizzando delle strategie manifestando NUS NUS sta per intelligenza progetto scopo intenzione per espandersi svilupparsi e crescere chiamiamo Dio quando incontriamo la capacità di agire di un soggetto che manifesta la propria volontà per manifestare il proprio essere un Dio è necessario che il soggetto riconosca a se stesso questa prerogativa che altro non è che la prerogativa di esistenza il suo diritto ad esistere nel riconoscere noi stessi in quanto Dei che agiamo nel mondo in cui siamo venuti in essere si scontra con un'oggettività sia dell'essere natura sia sociale che si sono prodotti in milioni di anni di trasformazioni e il mio stesso venire in essere è portatore di questa eredità inoltre ancora prima di uscire dalla vagina di mia madre si manifestano forze esterne che agendo sulla struttura emozionale informazione tentano di imporre la direzione alla mia esistenza impongono una direzione dall'interesse di me stesso per trasformare un me stesso in funzione di qualche ente esterno un dio padrone un sistema sociale una condizione lavorativa eccetera una condizione che non incontra l'essere sole o l'essere o virus proprio per questa specificità in cui l'essere umano in cui vive l'essere umano noi distinguiamo fra gli esseri umani coloro che non si prendono la responsabilità della propria vita nelle proprie mani in pratica hanno soggettivato la dipendenza della propria esistenza nei confronti di un ente esterno soggettivare significa far propria e ritrasmettere nel mondo la necessità di far propria impedendola ad altri da coloro che prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita manifestano tale responsabilità soggettiva nel mondo in cui vivono pertanto noi intendiamo come Dio colui che si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza per contro noi consideriamo dei tutte quelle condizioni che hanno costituito la costruzione della nostra esistenza tutte quelle condizioni che hanno costruito noi stessi perché le condizioni sono condizioni intelligenti che hanno la propria strategia di esistenza e che mettono in essere delle strategie per espandere se stessi per esempio la terra il sole l'atmosfera sono degli dei che hanno delle strategie di esistenza e che per proprio perché mettono in atto quelle strategie di esistenza mettono in essere le condizioni affinché noi cominciamo ad esistere e con noi intendo la natura in questo caso intendo ogni altro soggetto si è detto che siamo esseri della natura che siamo esseri della specie umana che siamo esseri sociali scegliere le proprie azioni in base alle proprie predilezioni e alle possibilità valutando il meglio per noi nel mondo in cui viviamo ogni presa di consapevolezza ogni manifestazione dell'intento soggettivo ha inizio dal mondo nel quale si vive con maggiore immediatezza il mondo sociale della propria specie la cultura nella quale si è immersi l'essere umano che si fa Dio diventa protagonista del proprio mondo e questo è inevitabile perché nel proprio mondo questo essere umano riversa le proprie tensioni le proprie passioni i propri desideri il proprio modo di essere quanto a fare bene per sé stesso dipenderà dalle sue scelte e dalle circostanze in cui quest'essere umano opererà ora per finire questa trasmissione parliamo del potere di essere il concetto di potere di essere è un concetto esclusivamente pagano ed è un concetto che appartiene esclusivamente alla stregoneria non esiste in filosofia un concetto di potere di essere per riuscire a capire il potere di essere bisogna che ci riferiamo ad antichi dei pagani fra i quali Demetra fra i quali Cerere cioè la crescita la trasformazione soltanto chi concepisce la propria esistenza come crescita e come trasformazione per cui come accumulo di sapere accumulo di conoscenza accumulo di tensioni accumulo di capacità di agire può concepire se stesso come un capitale che ha costruito un tesoro che ha costruito nel corso della propria esistenza questo capitale questo tesoro che è dentro noi stessi e che abbiamo costruito mediante le nostre azioni è il potere è il potere di essere una volta non sapevo andare in bicicletta dopo ho imparato ad andare in bicicletta adesso so pedalare dunque ho la capacità di pedalare prima non conoscevo l'inglese adesso ho imparato l'inglese adesso sono in grado di parlare dell'inglese prima non avevo il potere di parlare l'inglese adesso ho il potere di parlare l'inglese dunque ho accumulato un potere una capacità questo concetto di accumulare il potere il potere di essere come accumulazione soggettiva è un concetto che è squisitamente pagano voi non lo troverete mai nelle religioni monoteiste in quanto nelle religioni monoteiste esiste un solo tipo di potere è il potere di avere il potere di possesso il potere di fare delle persone quello che si vuole ma questo è un concetto squisitamente monoteista il potere di essere che si contrappone al potere di avere è un concetto squisitamente pagano un concetto della stragonaria il concetto di potere di essere è un concetto proprio della stragonaria l'oggetto della trasformazione in stragonaria è l'individuo che si modifica siamo noi stessi il potere altro non è che la capacità di un individuo di manifestare se stesso in ogni momento della propria esistenza chi pratica stragonaria manifesterà sempre se stesso un se stesso che affronterà le contraddizioni che incontra consapevole che la sua manifestazione all'interno di quelle contraddizioni è legata alle sue capacità alle capacità che ha costruito nelle contraddizioni precedenti che ha affrontato quando diciamo che la vita è un processo di costruzione soggettiva vogliamo dire che quanto costruiamo è noi stessi se il noi stessi rappresenta un oggetto in modificazione e quell'oggetto si rappresenta nel mondo agendo quell'oggetto è un potere solo che quello è il potere di rappresentarsi e di agire di un soggetto nell'oggettività del mondo dunque è il potere di ciò che l'individuo è nel mondo in cui l'individuo esiste dunque è il potere di essere dell'individuo e attraverso il potere di essere che noi costruiamo modificando noi stessi giorno dopo giorno che noi affrontiamo il tempo che ci viene incontro appunto giorno dopo giorno l'essere feto quando giunge ad aver accumulato il massimo del potere di essere accumulabile muore muore l'essere feto e nasce il bambino accumulando il massimo del potere di essere possibile agendo nel proprio mondo si genera la qualità la qualità che si genera dalla quantità di potere di essere accumulata dall'essere feto è la nascita del bambino dunque questo concetto di potere di essere è un concetto eminentemente della stragonaria del paganismo politista la mia vita è un processo di costruzione di me stesso la costruzione è un processo di Demetra è una manifestazione di Demetra è una manifestazione di crescita continua io la mia soggettività la mia psiche la mia consapevolezza cresce continuamente dunque io ho la capacità di rappresentarmi nel mondo in maniera diversa non sapevo sollevare i sacchetti da 25 kg con quella continuità con cui oggi l'ho fatto ho usato tendini nervi e muscoli per riuscire a farlo oggi sono in grado di sollevare in un certo modo quei sacchetti da 25 kg che prima non ero in grado di fare il mio potere oggi di rappresentarmi è maggiore di quello che avevo prima prima non sapevo correre i 100 metri in 9,9 sapevo soltanto correre i 100 metri in 12 secondi poi mi sono allenato ho teso i miei muscoli ho teso i miei tendini e sono riuscito a fare il record ho corso i 100 metri in 9,9 c'è tutta questa capacità che è l'uomo di trasformarsi all'interno dell'oggettività in cui vive è una rappresentazione del suo potere il potere di essere che non ha nulla a che vedere anzi si contrappone invece al potere di avere il potere di avere è quel potere che si determina mediante i cararmati mediante il governo mediante la forza militare e rappresenta praticamente il potere che va a possedere gli individui cioè il dio padrone massacra gli individui perché lui possiede gli individui possiede la capacità di massacrare gli individui ma lui non ha il dio dei cristiani non ha potere di essere ha solo potere di possedere e quando le persone i posseduti si ribellano o lui ritiene che si ribellano lui li macella cioè la capacità di mandare gli aerei a bombardare ma non ha la capacità di rappresentare se stesso fra quegli individui manda i cararmati e li massacra ma non ha la capacità di rappresentare se stesso in quegli individui e dimostrare che quegli individui sbagliano non ha l'idealità non ha l'ideologia non ha le tesi per costruire la vita non ha la capacità di trasmettere quello che lui vede alle persone può solo mandare gli aerei e bombardarli può solo far venire fuori il diluvio universale può solo mandare i cararmati è chiaro questo il potere di avere è il possesso o le persone fanno quelle che voglio io o io le ammazzo tanto sono roba mia il potere di essere è invece la capacità del soggetto di rappresentarsi nel mondo le due cose sono assolutamente e completamente inconciliabili bene io praticamente per oggi mi fermo qui se qualcuno volesse telefonare a parte qualche altra cosetta che voglio aggiungere e vi ricordo il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 839 c'è un'altra cosetta che prima di andare via volevo fare vediamo un attimo si è pronto? ciao ciao innanzitutto eccellente l'analisi come al solito insomma e puoi dirmi il cognome in lettere di Abner Sì Kurt KURT Sì sì Kurt H U BN e R H U Bologna Sì Bologna Napoli Empoli Ravenna Gubner sì ho capito ho provato a vedere nei Garzantini ma non lo trovo no non lo trovi questo qua è edizione Feltrinelli eh no no se è così nei Garzantini di letteratura di filosofia ho provato a guardare questo è Feltrinelli ed è stato edito nel 1990 non so se è stato repubblicato no ho capito no ma è un storico questo è un filosofo allora aspetta un attimo ti dico su allora Kurt Habner Kurt Habner è nato a Praia nel 21 è professore di filosofia all'università di Kiel e autore di numerosi volumi contributi della teoria della scienza di filosofia della storia del mito della religione della politica strano perché nella ciclopedia di filosofia non lo trova allora la presentazione di Gallimberti o tra tutto ah la presentazione di Gallimberti sì è a Feltrinelli è a Feltrinelli perfetto ok ciao grazie ciao ciao c'era un'altra cosetta che volevo fare per questa sera e mi è stato chiesto un piccolo omaggio alla un piccolo omaggio a Francesca che ha mandato in lista vediamo un attimo pronto ciao Claudio ciao voglio salutarti grazie perché ho partecipato a varie cose che hai fatto anche a Treviso sì su Paganese niente volevo siccome non riesco mai a beccarti e questa sera sono per strada ha capito e allora ci sono le famose cene di Natale che fanno sulle aziende è bene chiaro niente volevo farti intanto gli auguri non di Natale ma di Buonanno sì penso che tu li accetta meglio sì ma è bene tutto a me sì ok niente dopo volevo dirti prima ho sentito un flash così perché l'ho appena acceso sì per quanto riguarda diciamo così i monoteisti come si pongono nei confronti degli altri è il potere di avere sì sì il potere di avere però anche per esempio non so il Paganesimo l'Impero Romano aveva questo spirito insomma no non prenderla no non sto prendendo io per esempio intendo per esempio faccio una ho visto anche l'ultimo il gradiatore per esempio beh attenzione non è storico quello sì però mi è piaciuto come significato sì vabbè diciamo così anche religioso che avevano i romani non è che io prendo il film come filosofia di vita ma quello che volevo farti capire anche loro conquistavano territori sì ma non si mette in dubbio quello che fa uno stato si definisce ciò che fa uno stato certo nessuno ha detto che Roma non usasse il potere di avere poi ne ha fatte anche di cotte di crude specialmente Giulio Cesare ma nessuno lo mette in dubbio anche i greci sì sì ma guarda che nessuno lo mette per esempio anche adesso per esempio il paganesimo indiano che è praticamente la dottrina in gu però anche loro guerre ne hanno fatto sì ma no no ma guarda che quello che si distingue è fra il messaggio religioso e ciò che si distingue il messaggio religioso dal messaggio sociale però io volevo anche notare che quando Roma oppure gli hindù invadevano il territorio portavano civilizzazione capito ma assorbivano anche si assorbivano anche capisci certo quello che a differenza adesso che non succede per esempio la guerra in Iraq hanno bombardato hanno distrutto ma non è che hanno bombardato sì ma quello che volevo ecco quello che volevo fare capire io è che mentre una volta la guerra è una guerra di rapina no cioè io vengo a conquistarti e ti temi della roba che voglio certo dopo quando è arrivato il monoteismo la guerra fu una guerra anche dell'anima cioè distruggo l'anima del popolo capisci distruggo il sentimento distruggo la religione distruggo distruggo i bambini cioè spacco la testa dei bambini contro i muri capito esatto l'anima è questo che ha portato il monoteismo capisci che poi i romani massacrassano nessuno ha mai messo in dubbio perché ti ho fatto questa domanda perché io cerco di capire quello che ascoltano anche gli altri magari la gente ha sentito che tu hai detto questa frase ma tanti secondo me come me hanno pensato ma questo qua parla di paganesimo i dei romani quelli invadevano e si intrusgevano ma non hanno capito il senso dell'impatto ho capito se sì ma ok questo vorrei che tu lo spiegassi va bene adesso devo scappare via perché giustamente Stefano ce l'ho dietro le spalle senza altro grazie e anche a te sai e a tutti i radioascoltatori ciao ciao e colgo l'occasione far auguri in realtà a tutti i radioascoltatori perché io non ci sarò il prossimo giovedì mi raccomando mangiate bevete state bene e fate tutto quello che potete fare e che vi dà piacere perché in fondo questo è il paganesimo ciao a tutti e auguri a tutti e a risentirci fra 15 giorni ciao